ciao ragazzi macedonia di verdure allora un contorno semplicissimo ma con molte tecniche la cosa piacevole che andiamo a vedere una vasta gamma di prodotti vegetali dai prodotti a fusto a foglia a frutto a bulbo andiamo a vedere come si lavorano come si puliscono e ripassiamo un attimino i tagli dopodiché che abbiamo pulito e tagliato tutto quanto andremo a spadellarli e fare la nostra macedonia di verdura allora nel momento della stagione in cui siamo abbiamo preso per quanto riguarda degli ortaggi a frutto abbiamo peperone giallo e rosso abbiamo il pomodoro abbiamo la zucchina per quanto riguarda il bulbo abbiamo la cipolla rossa a fusto troviamo il sedano a fiore troviamo il cavolfiore a foglia abbiamo preso gli spinaci a radice abbiamo le carote e a tubero abbiamo il topinambur detto questo per prima cosa si mettono a pulire e preparare le cose più lunghe quindi il nostro pomodoro che vogliamo una con cassè dobbiamo andare a sbianchirlo prima di tagliarlo e lavorarlo quindi cosa facciamo andiamo a prendere il nostro pomodoro che sono già lavati sotto l'acqua andiamo a togliergli la parte verde ok e la buttiamo via con un coltello a sega ricordatevi sempre che l'acido del pomodoro fa perdere la lama fa perdere il filo al nostro coltello quindi utilizza un coltello a sega andiamo a fare una leggera incisione non devo tagliarlo devo solo inciderlo sul retro del pomodoro fatta questa leggera incisione l'acqua che è già stata salata appena prende il bollore andremo a immergerli e farli sbianchire sbianchire è una tecnica di cottura di immersione un liquido bollente per poco tempo dopo di che andremo a toglierli dall'acqua bollente e li raffredderemo in acqua e ghiaccio questo cosa fa facilita il nostro lavoro nel andare a togliere la pelle senza rovinare il pomodoro dopo di che il pomodoro lo taglieremo in quattro falde tireremo via la parte interna e perderemo soltanto la parte di polpa esterna che è quella più buona stessa cosa faremo con il topinambur il topinambur che abbiamo detto che è un pubero va pelato ok per pelarlo al meglio e per mantenere al meglio il suo colore il suo sapore naturale anch'esso andrà fatto sbianchire per magari qualche minuto in più rispetto al pomodoro quindi si lava dopodiché quando l'acqua bolle leggermente salata andiamo a farlo sbianchire bene una volta che ha sbianchito lo scoliamo lo facciamo raffreddare un attimino e poi andremo a pelarlo senza problemi perché altrimenti c'è sempre quel discorso di pelarlo e uno è fastidioso perché la pelle fa fatica a venire via ma soprattutto perché non avendo una forma unica e liscia e abbiamo all'interno delle pertuberanze si fa fatica a pelarlo e rischiamo di buttare via troppa materia buona in conseguenza sbianchendolo un attimino poi dopo con lo sperutino riusciamo a farlo bollire passiamo a mentre aspettiamo che l'acqua bolle a pelare le carote quindi carota e la patate il nostro contenitore degli scarti e con un movimento unico dall'alto verso il basso andiamo a pelare bene tutta quanta la nostra carota essendo una radice la carota non c'è parte da tagliare come spesso capita ma semplicemente da pelare per un discorso igienico quindi sempre con la patate io vado a pelare le parti che non ci servono qualcuno magari schizzinoso dirà eh ma c'è la terra ma non importa sono già state lavate io ottengo la mia carota senza aver fatto troppi scarti in eccesso ok andiamo ad applicare su tutte queste verdure oggi andremo applicare un taglio cubico di circa un paio di millimetri una sorta di risole ma più piccola ok una chiamiamola brunoise in modo tale che se riusciamo a fare questa brunoise sulla maggior parte dei nostri vegetali di oggi quando faremo la nostra macedonia cotta ovviamente di verdura abbiamo molta cromaticità all'interno e un'omogeneità anche nel taglio in modo tale che questo contorno può essere applicato a qualsiasi piatto desideriamo ed ha colore, dà sapore e con una forchettata o con un cucchiaio riusciamo a prendere tutti i componenti del nostro del nostro contorno ok andiamo a tagliare a metà la carota per comodità dopodiché andiamo a tagliare una fetta sottile in modo tale che la nostra carota ha stabilità e non rotoli più sul nostro tagliere iniziamo a tagliare delle fette da circa un paio di millimetri queste fette da un paio di millimetri le andremo a sovrapporre non troppe un paio per volta e taglieremo ancora dei bastoncini da un paio di millimetri gli stessi bastoncini andremo a tagliare dei cubetti da ok e la nostra carota a brunoise è fatta adesso bolle l'acqua andremo a immergere i nostri pomodori per andare a sbianchirli ripeto l'acqua è già stata leggermente salata prendiamo delle bull e cerchiamo di dopo il taglio di tenere separate le nostre verdure in modo tale che la cottura poi la faremo tutta quanta separata questa è acqua fredda appena passa al minuto possiamo andare a prendere i nostri pomodori come vedete la pelle inizia già a staccarsi quindi io vado a bloccargli la cottura in acqua fredda con del ghiaccio e li lascio da parte un secondo in modo tale che l'acqua fredda blocchi la cottura e il nostro pomodoro non va avanti a cuocere nel mentre passiamo a un altro ortaggio per esempio la zucchina andiamo a prendere la zucchina tagliare a filo la parte dell'attacco dalla pianta al frutto e a filo la parte sotto dove questa parte qua dove si aggancia poi il fiore di zucca il fiore di zucchina quando sono piccoline che va in fioritura la parte che abbiamo tolto da un lato che è quella più coreacea è la parte che attaccata alla pianta e la parte piccolina è quella dove poi c'è il nostro fiore anche essa per comodità andiamo a tagliarla a metà utilizzeremo soltanto la parte verde quindi andiamo a tagliare dolcemente e delicatamente solo la parte verde perché non si usa la parte interna per un discorso sicuramente cromatico ma soprattutto perché la parte di semi all'interno può essere amara può essere fastidiosa il taglio da applicare è lo stesso della carota quindi andremo a tagliare delle batonette quindi queste sorta di bastoncini circa un paio di millimetri dopodiché questi bastoncini andiamo sempre con la schiena dritta e coltello dritto andiamo a tagliare dei cubetti da circa un paio di millimetri la cosa più importante quando si fa questo lavoro soprattutto nel ripassare i tagli di base è quello di avere una salda impugnatura sul coltello un coltello ben affidato e la precisione nel cercare di stare dritto col corpo in modo tale che vediamo quello che facciamo ricordo il coltello il prolungamento della nostra mano se noi abbiamo impugnatura scarsa e non salda e ci ingoppiamo con la schiena stando storti di conseguenza il nostro tronco si inclina e il coltello automatico si inclina e quindi abbiamo un taglio che poi non sarà preciso ma sarà tutto storto e inclinato l'opposto di quello che vi diamo andiamo a recuperarlo metterli in una bura anche loro sta bene iniziare a bollire ma riusciamo a fare in tempo a fare il peperone peperone cosa facciamo una volta che è pulito andiamo con uno spelucchino entriamo dalla parte del verde facciamo il giro dopo di che delicatamente dividiamo le due metà avendo diviso le due metà sempre con lo spelucchino andiamo a togliere tutti i semini che ci sono all'interno andiamo a tagliare la parte bianca stando molto delicati si tira via e cerchiamo di togliere tutti i semi che ci sono all'interno dopo di che tagliamo la falda applichiamo lo stesso taglio ovviamente ha una forma diversa quindi io per facilitarmi posso tagliare le parti dove il peperone si arriccia se vedo che è rimasto del bianco come in questo caso con lo spelucchino lo vado a rasare via questa parte qua andiamo a tagliarla sempre a bastoncino di un paio di millimetri lo stesso bastoncino poi andremo a tagliarlo a cubetti da un paio di millimetri questo lo faremo sia col peperone rosso e col peperone giallo dopo di che quasi per bollire aspettiamo un attimo passiamo al sedano il sedano andremo a staccare tutte le foglie del nostro sedano che non vengono utilizzate sedano anch'esso prelavato andiamo a tagliare una parte che ci aiuti a lavorare senza problemi possiamo o spiggiarlo sul tagliere o semplicemente girarlo facendo molta attenzione perché le due tecniche sono o schiacciarlo però rischiamo di perdere una parte di succo una parte di gusto quindi lo schiacciamo e già andiamo a renderlo morbido non più croccante e dopo tagliamo la nostra parte a bastoncino e poi a cubetto oppure io lo taglio nella altezza che mi serve e senza schiacciarlo troppo vado a tagliare direttamente in questo senso la mia sorta di batonette chiamiamola così che mi permette poi di fare il cubetto ok questo perché perché se io lascio senza schiacciarlo rimane croccante e quindi anche poi una volta che abbiamo fatto la nostra macedonia il nostro gioco di avere consistenze diverse all'interno del piatto è sempre piacevole sempre goloso sentirlo quindi ci può aiutare sta per bollire sta bollendo andiamo a immergere il nostro topinambur nell'acqua bollente a questo punto mentre lui sta cuocendo andiamo a scolare i nostri pomodori e andiamo a pulire il pomodoro vedete che c'è la pelle io questa pelle qua la vado a staccare senza alcun problema adesso perché siamo riusciti a sbianchirlo il nostro obiettivo era avere un pomodoro che non sia del tutto crudo ma che riusciamo a togliere la pelle ok andremo a tagliare a metà e la stessa metà la taglieremo nuovamente a metà ottenendo così un pomodoro in quattro parti prendendone un quarto con il coltello a sega dolcemente vado a incidere la parte di semenza e seguo la forma del pomodoro vado a noi in questo momento qua la buttiamo ok però a casa potete tenerla frullarla e fare una salsa di pomodoro può fare che non sarà proprio la salsa di pomodoro ma fare un liquido di condimento con la semenza del pomodoro risulterà non più rossa come la salsa di pomodoro normale ma avrà un sapore di pomodoro e sarà molto più chiara ok la stessa falda andiamo a tagliarla anche lei a striscioline ovviamente eliminando tutta quanta la semenza andiamo a tagliarla a bastoncino come tutte le verdure che stiamo facendo in questo momento e poi a cubetto d'accordo? adesso mentre mettiamolo qua così come vedete bene mentre va avanti a cuocere il topino a burro do una lavata alla nostra potete vedere che pomodoro ci ha sporcato dopo passeremo al cavolfiore e alla cipolla gli spinaci essendo in foglia semplicemente lavati e sciacquati andremo magari a spezzettarli a mano se vogliamo ma non è necessario li spadelleremo per i fatti suoi e dopo magari tagliamo una volta spadellati ricordo che una foglia pur grande come questa che può essere grande una volta che tocca l'acqua tende a ridursi quindi se già la sminuzziamo adesso durante la fase di cottura rischiamo di non far più nulla ok passato qualche minuto di bollore al nostro topino a burro andiamo a prendere la burro con dell'acqua fredda da bloccargli la cottura e andiamo a scolarli Mentre si raffredda lui ci mancano due componenti che sono ortaggio a fiore che è cavolfiore e la cipolla che è a burro Allora cavolfiore andiamo delicatamente a staccare le foglie che non ci servono e ci fanno lavorare con più facilità Dopodiché con molta attenzione con uno speruchino andiamo a tagliare la parte centrale del cuore dell'acqua centrale del cuore dell'acqua Una volta pulito completamente andiamo a tagliarlo a metà e vedremo che all'interno ha un tronco centrale e tanti rami dove poi ci è attaccato il fiore D'accordo? Noi dobbiamo con lo speruchino tagliare questi chiamiamoli rami per poi staccare senza alcun problema il nostro fiore Dobbiamo riuscire a ottenere dei piccoli fiorellini di questa dimensione non più grandi perché più grandi andiamo a distruggere il discorso di prima dell'omogeneità nel piatto Quindi cosa faccio? Con lo speruchino lo taglio a metà e poi all'interno dolcemente vado a tagliare tutti i nostri ramettini Se anche seguendo la forma naturale del cavolfiore che giustamente non sono tutti quanti uguali ottengo dei fiori troppo grossi lo stesso fiore io posso tagliarlo a metà L'importante è che quando andiamo a tagliarlo per ottenere un fiorellino piccino così che carino che vola via dobbiamo riuscire a tagliare il ramo centrale D'accordo? Quindi paradossalmente io taglio un rametto se è vicino così mi va bene se io taglio un rametto che è più grosso così posso tagliarlo ancora a metà al ramo e ottenere il nostro fiorellino Detto questo poi passiamo alla cipolla La cipolla, vediamo la cipolla rossa ora, però tutte le cipolle si puliscono in questo modo Sotto alla cipolla abbiamo una parte di crescenza e una parte invece di fondo dove sono attaccate le radici Noi dobbiamo cercare di tagliare il meno possibile con lo speruchino questa parte In modo tale che trovo ugualmente la parte di inizio dove c'è il germe iniziale della cipolla e andiamo poi a pelarla senza alcun problema La cipolla è fatta a strati Quindi la tecnica di tagliare la cipolla sarà sicuramente diversa rispetto alla tecnica di tagliare una carota perché la carota è una radice, la cipolla è un bulbo, è fatta a strati una e l'altra un pezzo unico Quindi la carota è un esempio, però bisogna fare due tecniche diverse Ecco perché la parte sotto bisogna cercare di tenerla sempre fino alla fine Poi quando abbiamo chiede di fare il nostro taglio che non ci serve andiamo a portarlo a vivere Perché fino alla fine? Perché io adesso prendo il trinciante e vado a tagliare a metà la mia cipolla E come detto vedete l'interno che è fatta a vari strati Prendiamo una metà, questa metà andiamo a togliere la parte più interna che è quella dell'anima che si può chiamare anche così, che è molto fastidiosa e in cucina magari la utilizziamo per fare altre cose ma di certo non la mangiare così Dopodiché io vado a, vedete che abbiamo detto che è a strati, devo fare dei cubetti Quindi cosa faccio? Io vado a fare dei tagli in orizzontale in più parti, in due o tre fasi Fermandomi sempre a pochi centimetri dalla fine Dopodiché la metterò in verticale e andrò a tagliare la distanza che mi serve Poi riportando la lossata naturale taglio a Giulienna e ottengo i miei quadrati Quindi facciamo passo per volta assieme Incido quasi fino alla fine, ok? Senza che si stacchi Quindi cerchiamo di tenere l'altezza desiderata per il nostro cubetto Abbiamo detto un paio di millimetri, quindi cerchiamo di farlo circa millimetrico Giro leggermente la cipolla e faccio la stessa cosa incidendola nel senso opposto Con molta attenzione perché poi è facile che man mano la cipolla inizia a smontarsi un pochino Anche si smonta questa parte non la buttiamo, la teniamo però Adesso rigiro la cipolla e vado a tagliare delle fette da un paio di millimetri Facendo così io ottengo il cubetto desiderato, d'accordo? Ovviamente si spalderà perché abbiamo detto che è parte a strati Quindi non può rimanere bella compatta come una radice o un frutto, ok? Si spalda ma almeno abbiamo mantenuto un'omogeneità in ogni cubetto che abbiamo fatto Ora possiamo passare al topinambur Andiamo a scolare l'acqua E col topinambur andiamo dolcemente con lo speruchino a pelare il nostro topinambur Ecco magari se vedete che è ancora troppo duro potete lasciarlo giù qualche minuto Considerate che noi dobbiamo ricuocerlo ancora una seconda volta Quindi è stata proprio voluta la cosa di scolarlo un attimino prima Se voi invece volete mangiarlo o lo utilizzate per poi impastarlo da qualche parte o quant'altro Allora fatelo cuocere di più e sicuramente farete meno fatica nel pulirlo Dato che poi noi dobbiamo ricuocerlo perché dobbiamo cuocere la nostra macedonia di verdura Allora l'ho lasciato leggermente al dente Però a differenza di quando è crudo riusciamo a pulirlo senza troppa difficoltà Stessa cosa Taglio Fetta La mia testa vado poi a tagliarla E Così abbiamo i nostri cubetti Una volta che abbiamo tagliato a cubettini tutti i nostri vegetali Ricordo il nome del cubettino Facciamo una brunoise o massimo una risole Quindi brunoise intorno ai 2 mm cubi La risole intorno allo 0,5 cm cubi L'importante è mantenere la stessa misura per tutti gli ortaggi che abbiamo appena visto Come si lavorano, come si preparano Due sottenti aderenti per velocizzarci un attimino Dell'olio, del sale, un pochino di acqua che può servire per terminare alcune cotture Dell'aceto di mele E poi andremo a fare insieme allo zucchero, l'aceto di mele e la cipolla rossa Una sorta di condimento già Partiamo da padella calda Mettere un filo d'olio Iniziamo a spadellare i nostri peperoni Ricordo che la tecnica di cottura che andiamo ad applicare oggi È la tecnica di cottura in padella Quindi una saltata veloce, una spadellata veloce In modo tale che i nostri vegetali rimangono anche leggermente croccanti e al dente Sicuramente qualcuno di voi con un pochino di ingegno Un po' di fantasia, un po' di nozione Riesce a capire che stiamo facendo una macedonia di verdure Ma è una ricetta che è già stata fatta Perché la caponata fondamentalmente è storica come ricetta Quindi possiamo anche interpretarla come una rivisitazione di una caponata Un qualcosa di un po' più giovane, un po' più fresco, un po' più cromatico E soprattutto spadellando separatamente e anche velocemente Perché come vedete è una cosa molto rapida Tutti i nostri ingredienti Riusciamo a mantenere il sapore stesso ad ogni ingrediente A differenza di una caponata di verdura generale Dove mettiamo i peperoli, le zucchine, le lanzane e tanta salsa pomodoro Alla fine della fiera c'è il rischio che prevalga un sapore quasi ulto Invece così ogni inforchettata che prendiamo Tagliandola ovviamente molto bene Riusciamo ad avere un'omogeneità di un sapore e un sapore bello condito Una volta spadellata andiamo a recuperarle tutte quante all'interno della nostra mura Utilizziamo la stessa padella, vedete il sedano spadellato messo dentro Utilizziamo la stessa padella, riaggiungiamo un goccino d'olio Passiamo al secondo vegetale Quindi mettiamo la carota Magari di qua gli mettiamo una zucchina Pizzico di sale Ovviamente un pizzico leggero ogni volta Perché aiuta a condirli bene A far riuscire l'acqua tipo nei peperoni In modo tale che la cottura sia più omogenea e costante Ma non esageriamo Perché se esageriamo col sale a ogni spadellata di verdure Alla fine abbiamo un picco di sapidità all'interno che è molto alta Nelle verdure più coriacee, più consistenti tipo la carota Possiamo aggiungere un goccino di acqua Che aiuta a far cuocere Sempre lasciando da dentro meglio la nostra sottina Il pomodoro che l'abbiamo spadellato L'abbiamo sbienchito e pulito Non vado a spadellarlo Altrimenti lo renderei a salsa Quindi posso già unirlo agli altri vegetali spadellati Via anche la zucchina Vedete che è molto rapida come cosa Proprio spadellata Una volta molto rapida Una volta che la carota ha assorbito tutta quanta l'acqua Via anche l'oro È molto facile da fare È molto buono Ed è una cosa piacevole Perché comunque resta sempre Un vegetale come contorno Che spesso non sappiamo cosa fare di contorno Quindi in questo caso qua A casa che magari abbiamo un pezzettino di un vegetale Un pezzettino di un altro Facciamo in modo tale che puliamo il frigorifero di casa magari Nel senso che utilizziamo gli ingredienti che abbiamo in casa Creiamo un contorno bello piacevole E è un contorno che va bene È 12 mesi l'anno Perché io prendo gli ortaggi Di vegetali Che ci sono in quella stagione diversi Perché paradossalmente posso farlo con Mi basta di mettere un bottolo d'acqua Oggi iniziamo a finire di cuocere il topinambur E' una mozione Dicevo 12 mesi l'anno Perché Per il periodo di carciofi Posso usare il carciofo Posso usare gli asparagi Posso usare qualsiasi vegetale voglio Ok? Topinambur rapido Anche perché l'abbiamo già fatto spadellare E scutare E scutare Di alpire prima Pilino d'ogno Mettiamo dentro un po' dei nostri spinaci freschi Pizzico di sale Facciamoli appassire bene Con cui si sarà domandato Perché la mandorla? Perché Avevamo a disposizione delle mandorle Già belle tostate Già buone Posso utilizzare qualsiasi frutta secca voglio Quella che più vi aggrada Ma la mandorla in questo caso Perché mi piaceva questa mattina Le ho viste in dispensa Ho voluto utilizzarle Ma Ripeto Possiamo utilizzare Pinoli, pistacchi Vole che volete Un'aggiunta di frutta secca Che cambia ulteriormente La consistenza Alla nostra macedonia E mettiamo qualcosa di croccante Ricordatevi che Che sia pistacchio Che sia pinolo Che sia noce E mandalo E quant'altro È sempre meglio Dargli una tostata Vedi Del forno Prima di questo Via anche il cavolfiore Vede che lo spinaccio Si è appassito Si è appassito Ha cambiato il volume Via anche lo spinaccio Adesso cosa facciamo Cipolla rossa Cipolla rossa Cipolla rossa mettiamo un goccino di olio Mettiamo all'interno la nostra cipolla rossa A lei non aggiungo aggiungo un pizzichino di sale ma poco la lascio appassire mentre appassisce Vado ad aggiungergli un goccino di aceto di mele La faccio appassire bene Mentre appassisce gli mettiamo anche qualche cucchiaino di zucchero Facendo questa opzione di zucchero e aceto di mele Che poi una volta che la cipolla è appassita Andremo a togliere la cipolla e a rifare questo liquido È un liquido di condimento che dà quell'effetto agrodolce Che poi utilizziamo per condire bene la nostra macellonia di verdure Adesso poi mischiamo bene il tutto anche per un discorso cromatico Adesso vediamo che la cipolla è appassita Il liquido sembra che ce ne sia anche abbastanza di liquido Quindi inizio a condire e mischiare tutto Nel caso in cui vedo che la quantità di liquido che ho all'interno Non è sufficiente per condire bene il tutto Semplicemente vado a rifarlo Quindi padella, rimetto ancora un po' di aceto, rimetto ancora un po' di zucchero Le nostre mandorle che abbiamo tostato Andiamo a tigiarle lasciandole grossolane Possiamo andare lì poi a tigiarle che è una gritarna grossolana Dopodiché Vado a mischiare Vedete quanto è cromatico Quanti dei colori che abbiamo all'interno Piatto 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 Mucchiaio Andiamo a riempirlo Del mucchiaio Andiamo a riempirlo Poi volendo possiamo mettere sopra per decorare qualche ciuffetto di cavolfiore o qualche mandorola, poi sbriciolata. E questa è la nostra macedonia di verdure, quindi piacevole per dei contorni, o anche per un vegetariano che fa voglia di mangiare dei vegetati misti come portata unica. Buona macedonia!